ciao a tutti e bentornati sul canale io come sempre sono pasquale questo è risparmio bentornati in un nuovo video oggi andiamo un attimino ad analizzare un paio di situazioni che mi sono molto a cuore e nel senso qual è la possibilità e quali sono le tecniche che possono portarci alla indipendenza finanziaria perché faccio questo video ne ho fatti similmente alcuni diciamo sullo stesso concetto in passato ma di recente ho finito di leggere un libricino piccolo in inglese si chiama the total money makeover qui in italiano l'anno tradotto non so perché indipendenza finanziaria il libro è un libro molto interessante però non vuole andare all'interno del libro vuole andare a parlare invece di un'altra cosa il libro secondo me dovete comprarlo perché c'è link affidato qui sotto in descrizione che va letto però secondo me va comprato anche perché quello che ho scoperto da questo libro è che molte cose che ho messo in pratica per raggiungere la mia indipendenza finanziaria sono in realtà quelle che ho trovato scritto in questo manoscritto che ho trovato scritto nel manoscritto allora perché secondo me è importanza questa cosa perché vuol dire che alla fine c'è una regola fondamentale nella quale uno può andare a muoversi per capire come diventare finanziariamente indipendente ovviamente ogni libro ogni youtube ogni blogger alle sue regole le 5 delle 5 azioni migliori i 10 azioni migliori le 15 azioni migliori da compiere per raggiungere la propria indipendenza finanziaria pare che ognuno c'è il suo numeretto e quelle vanno diciamo adattate in base al compiacimento di chi va a leggere o di chi va a guardare quel determinato contenuto io invece volevo portare un attimo all'attenzione una cosa nel libro di ramsen appunto indipendenza finanziaria lui ne riporta 7 se non sbaglio però secondo me ognuno deve andare poi a valutare la propria situazione e andare ad adattare le proprie necessità alla propria propensione al risparmio adattandola a quella che appunto sono questi punti cardine secondo me ne bastano 4 di punti cardine e volevo prendere appunto spunto da questo libro per darvi le mie diciamo considerazioni in merito ovviamente ho scritto anche un articolo che un po più approfondito che potete trovare sul blog www.risparmioinvesto.com ma qui diciamo vi do il sunto e vi do anche un po l'iterazione cioè lasciatemi dei commenti qui sotti così possiamo aprire una discussione in merito ovviamente se il video di vostro redivento un pollice in su che questo è veramente vi aggiunge un punto in più per farvi arrivare all'indipendenza finanziaria che è quello che tutti vogliamo fare inoltre fate capire anche youtube che io vi piaccio e che i miei contenuti vi piacciono ovviamente se sei nuovo sul canale ti chiedo anche di iscriverti e cliccare la campanella per non perderti nessun video successivo bene partiamo subito ovviamente il passo principale prima di andare a definire questi quattro passaggi fondamentali secondo me è capire una cosa molto importante che non si ottiene tutto subito pensare di raggiungere questi obiettivi di indipendenza finanziaria passando attraverso degli strumenti molto rischiosi magari passando attraverso prestiti mutui speculazioni particolari non è secondo me un'ottima tattica potrebbe funzionare e per qualcuno ha funzionato ma per molti potrebbe essere un burrone un baratro una scala diciamo molto più veloce non scivolo verso l'oblio cosa che non tutti vogliamo perlomeno io non voglio poi volevo anche dirvi di evitare di fare gli stessi dati che ho fatto io perché io mi sono concentrato a cercare di risolvere la mia situazione in un certo modo e questa non era la modalità ottimale ognuno deve cercare di ritrovare la sua modalità però mi raccomando cercate di capire in maniera univoca in maniera molto analitica e soprattutto essendo molto critici nei confronti di voi stessi se state veramente perseguendo quell'obiettivo in maniera corretta oppure no perché poi vi potreste trovare in una situazione che si trova all'opposto di quello che effettivamente l'obiettivo che state cercando di raggiungere e vi trovate magari in una situazione peggiore di quella dalla quale siete partiti un'altra considerazione da fare è che se fosse semplice saremmo tutti ricchi e benestanti non è semplice si tratta di rimboccarsi le maniche fare dei grandi sacrifici fare delle grandi rinunce per cui se sei qui pensando di avere quattro regole che fra qui a un mese ti fanno diventare finanziariamente indipendente puoi chiudere il video qui e andare su qualche canale di qualche guru che ti promette falsità io ti dico la strada che ho seguito gli errori che ho fatto perché ho fatto degli errori in questi passaggi però quello che ho capito è quello che secondo me dovrebbe essere un po come bisognerebbe impostare questi quattro passaggi questo perché vorrei evitare che chi mi sta seguendo in questo momento faccia i miei stessi errori possa arrivare prima al proprio obiettivo senza fare senza trovare degli intoppi come ho fatto io per cui ho perso del tempo in questo percorso che non vorrei tu perdessi per cui cerca di seguirmi bene perché sono quattro semplici consigli che ti potrebbero aiutare a raggiungere il tuo obiettivo di indipendenza finanziaria in un modo molto più veloce e soprattutto molto più ponderato partiamo dal primo punto fatti un bel cuscino e se fatti un bel cuscino di emergenza molti parlano del famoso fondo di emergenza e la domanda che ci si pone molto spesso è ma devo pagare i primi debiti devo fare prima il fondo di emergenza devo cominciare a investire prima devo fare tutto un po insieme allora io ho fatto l'errore madonna di fare tutto un po cominciare a pagare un po di debiti cominciare a fare il fondo di emergenza cominciare a investire tutto insieme questo secondo me è un errore perché va a distogliere l'attenzione va a prolungare la durata di ogni singola azione nel tempo quando invece ci si potrebbe concentrare in un unico punto portare avanti quella situazione e risolvere prima possibile per cui quello che dico io è anche un po l'ispirazione che poi ho preso da questo libro di david ramsey l'indipendenza finanziaria di total money makeover non voglio chiamarlo così per l'italiano è che bisogna prima fare un piccolissimo fondo di emergenza iniziale una piccola un piccolo fondo a cui attingere per le piccole spese improvvise nel libro si parla di mille dollari quello che dico io è magari uno stipendio oppure un mese di spese oppure fra i mille e 1500 euro perché poi ognuno va a diciamo fare il tuning a fare valutazioni personali in base a quello che possono essere le situazioni appunto di ognuno di noi per cui cerca di trovare quello che l'acqua da per te stesso e muoviti di conseguenza perché si fa prima questo fondo di emergenza iniziale piccolo perché se tu stai pianificando di ripagare dei debiti di investire di creare un indipendenza finanziaria tutti sappiamo che nella vita di tutti i giorni possono avvenire degli intoppi piccoli ti si farà la gomma ti si rompe il telefonino fai lo youtube ti si rompono le luci ti si rompe la camera ti si rompe il microfono per cui se stai cercando di raggiungere un obiettivo e non hai un pochettino le spalle coperte piove e non hai un ombrello ti bagni e un ombrello prendi umidità ma non ti bagni metti diciamo non è una corazza di adamantio che ti metti intorno ma ti metti non so uno strato di gomma piuma che riesce ad attutire i colpi che vai a ricevere questo significa che anche se qualcosa di inaspettato si verificasse non ti trovi nella situazione madornale di dover rinunciare o di dover ritardare i tuoi obiettivi perché è successo qualcosa che non ci aspettavi per cui prima di fare altri passi più importanti che sono gli step i tre step successivi secondo me dovresti costruire questo piccolo fondo di emergenza piccolo perché appunto va a ovviare alle spese iniziali subito dopo fatto questo conto e questo ovviamente riuscire a costruirlo questi 1000 euro per esempio solo in base al tuo stipendio le tue spese personali potrebbe volerci due mesi potrebbe volerci sei mesi questo lo valido in base a quello che sono le tue possibilità poi puoi passare al set successivo che quello di ripagare i debiti ovviamente la premessa iniziale che tu sia disposto a fare dei sacrifici come dicevo prima per cui che non sei disposto a fare delle rinunce per ovviare la tua situazione economica non ha senso neanche che inizi per cui poi passi al secondo step e passi a diciamo cominciare a eliminare tutti i debiti io al contrario di quello che dicono molti miei colleghi qui su youtube lo dico l'ho ribadito molte volte e ci tengo a ribadirlo il debito è debito per me non esiste un debito buono è un debito cattivo anche se c'è chi sostiene se compri una casa è un debito buono se compri per affittare una casa un debito buono per me è debito punto e nel momento in cui hai una difficoltà economica e hai un debito sei in una situazione di forte svantaggio se è un mutuo da 200 mila euro e perdi il lavoro sei in una situazione di svantaggio se tu non hai il mutuo non ti trovi in quella situazione di svantaggio sono ovviamente delle considerazioni personali poi ognuno fa quello che diciamo è il proprio la propria analisi personale dei propri conti e si muove come vuole vuole io mi muovo in questo modo e ovviamente nessuno deve seguire queste come il mantra diciamo non il manga stava dicendo il mantra della situazione come attaccare i debiti nel libro ha detto dal money che mi cover lui e definisce the snowball effect l'effetto palla di neve io l'ho definito un po come l'effetto valanga e questo è un errore che ho fatto anche all'inizio io puntavo tutti i debiti un po alla volta cercando di pagarli nel modo più importante possibile però andavo random non avevo una strategia e questo mi ha fatto un po prolungare il tempo nel quale sono andato a eliminare i debiti invece se si fanno a fare delle valutazioni a priori di come affrontare il debito secondo me come dice davidio bransi si riesce ad arrivarci prima con l'effetto palla di neve come lo definisce lui si va a attaccare il debito più piccolo ha senso perché perché ovviamente diciamo io nel blog ho fatto un esempio di quattro debiti con la stessa rata un debito da mille euro un debito da 2.000 uno da 4.000 uno da 10.000 euro nell'ipotesi assurdo ovviamente perché non funziona così che ogni debito avesse una rata da 50 euro al mese per cui 200 euro al mese su quattro debiti spalmati su quattro debiti ovviamente il debito da mille euro si riesce a ridurre prima perché un debito più piccolo per cui se si riesce a fare tutto quello che ho definito all'inizio cioè di ridurre le spese aumentare la propria capacità di pagamento si potrebbe per esempio pensare di andare a dedicare invece di 50 euro al mese sul primo debito 70 100 diciamo 100 diciamo che una persona riesce a risparmiare 50 euro in più al mese che è una cosa fattibile e riesce a pagare il debito nella metà del tempo qui 50 euro al mese diventano 100 in 10 mesi io riesco a eliminare quel debito cosa significa che eliminando quel debito dal punto di vista personale per cui della mia autostima ho fatto qualcosa ho raggiunto un obiettivo sono riuscito a eliminare un debito molto prima adesso mi trovo con 100 euro al mese e invece di andare a sperperare quei soldi invece di andare a dire adesso 50 euro in più che posso spendere per me per portare fuori la mia ragazza per andare a comprare un nuovo telefonino questi 100 euro si vanno a dirottare sul secondo debito su quello da 2000 euro che non è più 50 euro al mese ma sono 150 perché perché 50 euro già li pagavi e 100 euro vengono dal primo debito per cui quel debito da 2000 euro non verrà più pagato in un certo arco di tempo molto lungo non verrà pagato in 10 mesi verrà pagato in un tempo minore quasi uguale a quello del debito da 1000 euro perché abbiamo non solo raddoppiato la quota ma abbiamo fatto una volta e mezzo la quota della rata principale e questo va a cascata perché il debito da 4000 non riceverà più dopo quando si è finito di pagare quello da 1000 e quello da 2000 50 euro ma abbiamo i 50 euro del debito da 2000 più i 100 del debito da 1000 150 più i 50 euro che si paga nel debito da 4000 sono 200 euro al mese vuol dire che invece di pagare il debito in quanto si era prestabilito con 200 euro al mese già in 10 mesi si pagano 2000 euro in 20 mesi si può pagare quel debito stessa cosa per il debito da 10.000 euro in tre anni riusciamo a pagare il debito da 10.000 invece in 16 anni ovviamente come dicevo all'inizio si tratta di esempi assurdi ma l'ho fatto per semplificare il calcolo mentalmente 10.000 euro 50 euro al mese sono circa 16 anni nessuno fa una rata così lunga neanche le banche te lo danno però comprimere quei 10 anni in tre grazie al fatto che si sviluppa questo effetto palladineva questo effetto valanga come ho definito io è una cosa molto ma molto importante perché piano piano si va a costruire anche quella che è la nostra autostima nel maneggiare i soldi autostima nel capire che si stanno facendo un po' alla volta passi piccoli che diventano passi da gigante questo è importantissimo perché appunto ci permette di raggiungere prima la nostra indipendenza questo vuol dire che invece di metterci 10 anni per andare a cominciare a far fruttare i nostri soldi quell'interesse composto negli investimenti magari in 5 anni ci siamo già liberati di tutto nella metà del tempo è una cosa molto ma molto importante il terzo step e quello successivo è quello di crearsi il vero e proprio materasso di emergenza come lo definisco sul blog la mongolfiera di emergenza perché adesso bisogna creare quel fondo di emergenza che un po' tutti dicono di creare cioè dai 3 ai 6 mesi di spese vive o di spese in generale della nostra vita il vantaggio qui è che noi partiamo già da una situazione in cui abbiamo 1000 euro da parte o un mese di spese da parte 1000, 1500, quello che è noi abbiamo più debiti per cui abbiamo un'altra parte che sono circa 250 euro al mese in più che adesso non spendiamo più i debiti che possiamo andare a mettere nel conto di emergenza questo significa che se volessimo creare un conto di emergenza da 5.000 euro in due anni dovremmo farlo senza avere 1000 euro che abbiamo già messo all'inizio ma avendo già 1000 euro in un anno e mezzo abbiamo già creato il nostro conto di emergenza e questo è un altro motivo per il quale dico che bisogna concentrarsi concentrandosi su una singola cosa prima il piccolo fondo di emergenza principale poi i debiti e infine il conto di emergenza quello principale, quello primario, quello più ampio si riesce a raggiungere gli obiettivi in maniera molto più veloce fatto ciò abbiamo le spalle coperte da un qualsiasi tipo di evento straordinario per cui non le piccole spese, non i piccoli imprevisti, non la macchina che fuori a una ruota non il telefonino che si rompe ma ad esempio ci facciamo male sul lavoro, siamo 6 mesi a casa perdiamo il lavoro e rimaniamo toccando ferro invalidi abbiamo il funerario della nostra persona più cara abbiamo le spalle coperte e ci troviamo in una situazione in cui non dovremmo svenarci non dovremmo fare debiti, non dovremmo fare dei passi eccessivi rispetto a quelle che sono le nostre possibilità per poter ovviare delle spese impreviste questo permette anche di trovarsi in una situazione in cui ad esempio se perdeste il lavoro sapete benissimo che fare dei colloqui con un affanno, con un nervosismo particolare non permette di fare i colloqui in maniera serena e per cui in maniera ottima o comunque ci permette magari di accettare delle offerte che in passato non avevamo accettato solo perché abbiamo bisogno di un reddito in questo modo invece ci troviamo nella situazione di poter lavorare meglio sulla nostra psicologia e cercare un lavoro in maniera più tranquilla o ovviare a quell'evento straordinario in maniera molto più tranquilla senza ritrovarsi sommersi da spese eccessive ultimo passaggio che tutti stavano aspettando quello di investire, qui abbiamo creato il nostro piccolo piscino di emergenza poi abbiamo pagato i debiti e abbiamo creato il nostro fondo di emergenza la nostra mongolfiera di emergenza siamo arrivati al punto principale quello di cominciare a fare fruttare i nostri soldi quale è quello che è l'interesse composto? l'ottava veramiglia del mondo come definita da Albert Einstein ma comunque adesso siamo arrivati a quel punto in cui dobbiamo decidere come utilizzare tutta questa liquidità in più che ci siamo creati ecco qui come dico sempre non sono un consulente finanziario non vi dirò in questa fase dove dovreste andare a investire David Ramsey lui propone quattro fondi io non vi propongo niente perché non sono la persona adeguata andate da un consulente finanziario se non siete preparati spendete qualche soldo in più lì e magari non so riuscite a investire in maniera più consona oppure fate i vostri studi, approfondite non vi fermate a Pasquale Riganello, non vi fermate al blog, non vi fermate a YouTube fate i vostri approfondimenti fate i vostri studi, le vostre cose, sono soldi vostri cioè non è che potete riferire a me su come andare a usare i vostri soldi come andarli a fare fruttare non voglio questa responsabilità e non dovete darla neanche voi agli altri dovete prenderla voi perché sono soldi vostri dovete informarvi, dovete studiare, dovete comprare libri dovete ampliare le vostre vedute c'è chi metterà i soldi solo in un semplice conto deposito perché è così c'è chi investirà in fondi azionari c'è chi investirà in ETF c'è chi investirà in azioni singole fate come volete l'importante è che siate preparati l'importante è che siate anche umili nel capire se avete sbagliato e prendere le opportune tecniche per poter rimediare a questo errore non fate le cose ad cazzum fatele con criterio perché ovviamente potreste vanificare tutti gli sforzi che avete fatto negli anni precedenti per potervi creare la vostra indipendenza finanziaria io punto i dividendi perché in età pensionabile voglio un cash flow ma c'è chi potrebbe non volere questa alternativa c'è chi vorrebbe investire solo in etf in un unico etf world che non è niente di sbagliato c'è chi vorrebbe investire in azioni singole fare stock picking dalla mattina alla sera fate come volete quello che vi posso dare come consiglio invece e questo lo do è di non aspettarvi di fare tutto e subito investire nell'ultima cripto nell'ultimo trend perché molte persone potrebbero diventare ricche ma voi potreste essere quella che diventa povera perché ovviamente seguire il trend senza conoscerne la parte fondamentale tutto quello che è il modo in cui questo trend va a esporsi tutto il modo in cui il trend va ad evolversi potrebbe essere la vostra fine finanziaria invece di essere la vostra metodologia di liberarsi diciamo da tutto quello che ci è intorno e diventare finanziariamente indipendenti ricordate che se Warren Buffett fa errori e li ammette perché non dovremmo farne noi per cui evitate di fare scelte che possono impattare in maniera molto negativa sulla vostra vita in maniera magari delle volte che potrebbe essere indimediabile perché se siete una persona della mia età avete molto meno tempo di un ventenne di rimediare i vostri errori di tipo finanziario e di investimento il libro in questo senso consiglia un 10-15% dei vostri introiti da dedicare al mondo degli investimenti quando stavo in Irlanda ovviamente non avevo la spesa dell'asilo nido e riuscivamo ad investire anche il 30-35% dei nostri stipendi in Italia questo non è più possibile magari da quando lui, da quando il bimbo non sarà più l'asilo nido per cui non avremo spese di questo tipo riusciremo a rialzare la nostra soglia però in questo momento riusciamo a fare solo il 15% che comunque male non è l'importante non è 100 euro, 50 euro al mese o 500 o 1000 l'importante è proseguire con una strategia ben definita che ci possa permettere di raggiungere il nostro obiettivo finale che è la nostra indipendenza finanziaria ovviamente non aspettatevi in conclusione che questa sia una strada in discesa non siete con una bicicletta senza freni in un rettilineo siete delle persone che stanno cercando di scalare l'Everest con delle ciapatte e per questo motivo se non pianificate bene questa cosa la cosa le ci abbatte l'Everest vabbè, se non pianificate bene questa cosa molto probabilmente vi farete tanto male se qualcuno vi promette guadagni impressionanti dall'oggi al domani se qualcuno vi vende corsi per farvi capire che potete andare a vivere in un paradiso fiscale dall'oggi al domani è una cuffa oppure ci sta guadagnando lui oppure vi sta facendo correre dei rischi molto ma molto grandi se volete farlo sono soldi vostri sono cose vostre io non ne voglio sapere quello che vi posso dire per mia esperienza personale è che chi va piano, va stanno e va lontano come dicevano i vecchi nonni oppure se vogliamo dirla in metodi molto più moderni se riuscite a costruire delle ottime fondamenta adesso vedrete che la vostra casa il vostro palazzo sarà molto più stabile molto più sicuro bene, spero che questo contenuto sia stato di tuo gradimento e se lo è stato per favore lascia un bel pollice in su e ovviamente se vuoi acquistare il libro di David Ramsey lo trovi qui sotto con link affidato in descrizione se lo compi io guadagno una piccola commissione a te non costa nulla in più ovviamente se sei nuovo sul canale ti ribadisco che puoi iscriverti al canale cliccare alla campanella per non perderti nessun video successivo e anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video ciao